Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Beh, allora, abbiamo fatto la volta scorsa i due passi principali quindi abbiamo fatto il passo laterale che era questo e il passo frontale che era questo Oggi andiamo su qualcosa di più divertente e vi insegnerò a fare la shuffle è molto molto facile Allora, per fare la shuffle dovrete semplicemente muovere le gambe Il primo passo è uno così il passo della gamba destra va davanti e la sinistra rimane e fa perno Quindi uno Subito dopo si alza, si tira indietro la gamba destra e si alza la sinistra Dopodiché giro in nuovo in questa posizione qua come deprima Come verrebbe il passo? Verrebbe una cosa di questo genere Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto È molto molto facile Ve lo faccio vedere sui piedi Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto A rallentatore questo è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Ve lo faccio vedere di lato che si capisce meglio Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Bene, vediamo il passo precedente più quello nuovo Allora, pronto? Regia! Allora, entrata! Questi erano i passi appresi fino adesso più la shuffle Bene ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao